La storia dell'entroterra abruzzese è stata scritta negli anni anche dalla fatica di uomini e donne che sul versante occidentale della Maiella hanno scavato molteplici miniere nella pancia della montagna madre che ha visto avvicendarsi intere generazioni di minatori. E proprio in occasione della tredicesima giornata nazionale delle miniere, il 26 e 27 giugno sarà inaugurato il Sentiero dei Minatori, un progetto che vede coinvolto in prima fila il comune di Letto Manoppello nell'ambito di un percorso ben più ampio che abbraccia tutto il bacino minerario della Maiella, recentemente dichiarata a Geoparco dall'UNESCO, che verrà presto aperto ai visitatori che potranno così fare esperienza di un turismo geologico e minerario che sta registrando un crescente interesse a livello nazionale. A parlarne al nostro microfono è stato Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico e firmatario di un emendamento al bilancio 2021 che ha previsto l'inserimento di un contributo di 25 mila euro per rendere operativo il progetto del Sentiero dei Minatori. Questa è un'idea che parte dall'amministrazione comunale di Letto Manoppello insieme alle amministrazioni comunali della Maiella, tutte quanti insieme in rete tra di loro, parliamo di Abbateggio, di Letto Manoppello, Manoppello, San Valentino e Scafa, tra loro sindaci presenti oggi in conferenza stampa, per riscoprire il sentiero che i minatori, circa mille che erano impiegati in queste miniere, effettivamente facevano, partendo proprio dal comune di Letto Manoppello, tre chilometri di sentiero naturalistico con delle iscrezioni che spiegano un pochino il sentiero ma spiegano anche le miniere. Ci sarà la possibilità di entrare in una di queste miniere con caschette e mezzi di sicurezza per circa 70 metri proprio nella pancia della Maiella dove hanno lavorato tantissime persone, uomini ma soprattutto donne, di questi paesi tra il 1850 e il 1956. Nel Geoparco della Maiella i sentieri dei minatori sono molteplici e coinvolgono numerosi comuni, a partire proprio dal Letto Manoppello con il sindaco Simone Romano D'Alfonso. Andremo a visitare naturalmente con questo sentiero del minatore due miniere di proprietà comunali, si chiama la miniera di Santa Liberata e la miniera del Ponte. Quando ci siamo insediati due anni fa abbiamo preparato un progetto appunto per la messa in sicurezza del sentiero dei minatori. La regione Abruzzo naturalmente ha creduto in noi anche attraverso il consigliere Antonio Berasioli. I visitatori che verranno dovranno passare per il centro informazioni del Parco Nazionale della Maiella, avranno le attrezzature per poter affrontare il percorso, entreranno per 60-70 metri all'interno della miniera per poter visitare appunto come è fatta una miniera di astrazione di bitume. Lungo il percorso non mancheranno momenti enogastronomici a tema. Per fruire di una visita in sicurezza sarà possibile prenotarsi anche a causa delle normative anti-covid sul sito istituzionale del comune di Letto Manoppello e su quello del Geoparco Nazionale della Maiella.